Chiaramente è un fatto che lascia sgomenti tutti, non in qualità di sindaco, ma tutta la comunità di Montecompatri. Siamo arrivati subito sul posto, ci siamo messi subito a disposizione degli inquirenti, dell'autorità giudiziaria e stiamo dando riscontro per tutte quelle che possono essere le immagini che abbiamo a disposizione dal nostro sistema di visosorveglianza che fortunatamente è stato implementato anche negli ultimi mesi. Ho chiesto di convocare un comitato per la sicurezza per giovedì, c'è stata la piena disponibilità del prefetto con cui chiaramente collaboro costantemente anche per altre questioni, parleremo dell'accaduto e parleremo anche di altre questioni che chiaramente riguardano il comune di Montecompatri. C'è un problema di sicurezza nel comune, i bandeggio vanili? No, assolutamente no, anche perché da un momento sembra comunque questo sia un fatto che sia maturato altrove e non qui al Capolini, assolutamente. No, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. è il Capoligna come tutti i Capoligna di tutte le metro con tutti i suoi problemi, però posso dire che sia tra l'amministrazione, la polizia locale e tutte le forze dell'ordine c'è una piena collaborazione e cerchiamo in qualche modo di attenzionarla il più possibile notte e giorno. Grazie. 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 Grazie.